ti faccio vedere una cosa che è incredibile ragazzi questa è una cassaforte guarda ora ti faccio vedere come aprirla in tre secondi ti occorre questa semplice chiave allora devi prima passare qua ok poi devi forzare qua ecco a parte ragazzi guarda 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 vieni qua vieni qua vieni qua madonna guarda che roba ora ti faccio vedere cos'è che si nasconde dietro ragazzi veloci guardate qua madonna il veliere il veliere che devono sempre cercare 280 milioni di veliere ragazzi siamo ricchi guarda qua guarda qua il bronzo di torino altri 190 milioni di euro ragazzi andiamo andiamo corri 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 c'è da dove usciamo andiamo grazie a questo trucco ti ho appena svegliato ora si che ti puoi vantare con i tuoi amici cassafortisti